lui lo trovi in tutti in tutti i posti in campo bravo simosis rossa vecino madonna di quella che l'avevo vista dentro no proprio perché di ginocchio vai di testa no non fagli fallo non fagli fallo che cazzesco no no gli è scappato bravo no madonna cosa ha salvato bravo young bravo padelli pure che ben rischiato cioè quella abbiamo rischiato brutta è stato bravo con due 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 nella stessa azione tutto tutto questo è stato bravo perché allora qui se padelli non la toccava arrivava quello dell'udinese e qui padelli non fa più in tempo a rientrare però c'era qua c'era cosa ma sempre dovevi salvarla sulla linea dovevi sempre salvarla sì bravo si vede perché tiri oddio oddio non ci voglio dai è fosito però a porta vuota il portiere è per terra c'è la palla nei piedi va bene 18 anni ma anche il ragazzino dell'allievi segna la fucilata devi tirare cioè devi solo tirare in porta cazzo quando mai ti capita che il portiere la perde il difensore che cade per terra centrale poi ma gliela dare gliela passata ma vai dai sì sanchez tira ma vaffanculo tira prima già non riusciamo a fare un tiro in porta e più aspettiamo pure che si mettono avanti il difensore cioè hai la possibilità di tirare in porta ma poi c'è un acqua ma vaffanculo dai bella si eccolo hai visto tira si hai visto vaffanculo è una palla ma c'è sapere si ma vedi che candela c'era dai entra che posis sta facendo schifo dai hai visto basta mettere una palla giusta che ti va che vuoi vedere che ha fatto l'assistente non mi sono ha preso una regnata barella ma forse l'ha toccata qualcuno prima no no barella barella l'ha messa lì e vabbè oi difensore ma facci fare il gol vaffanculo il portiere ormai gli è passato in mezzo le gambe al giocatore non vai su su si vecino tira no porca puttana cosa ha parato non ci vuoi c'è questo io bene sei vecino almeno tu ah ah vabbè lukaku ha sbagliato vabbè ma lui ha sbagliato perché ha tirato centrale era troppo vicino alla porta ha tirato centrale si è lexis dai che abbiamo avuto culo anche lì il portiere non è uscito rigore è rosso pure è rosso anzi secondo me forse il rosso non glielo dà come no no giallo però questo è il cramore come no glielo dà no non glielo dà come no come no ma Musso è un crerino io ho detto prima io cioè qui guarda quanto tempo ha avuto per uscire non è uscito il portiere e tu mi dici che noi dobbiamo trattare quello lì chiudiamo sta cazzo di partita dai gol si bravo dai cazzo meno male grazie a dio che si era messa malissimo no vabbè 2 a 0 non è meritato dai l'Udinese ha giocato no no non è meritato per niente però vabbè l'Udinese ha fatto una bella parte prendila no no però l'Udinese ha fatto una bella parte prendila finito bravi ragazzi dai che c'è il verbi su è andata ciao forza